Io oggi voglio usare un'altra frase di un altro grande, di Vasco Rossi, che diceva già io sono ancora qua e questo per me è importante e sarò ancora qua, non mollerò niente, andrò avanti per la mia strada con le mie forze sperando di essere il più presente possibile, sempre con cautela e tutto, ma quando ci posso stare ci sarò sempre, perché mi fa sentire vivo, però non posso neanche andare oltre le mie possibilità, spesso nella mia vita l'ho già nato con cuore, adesso cuore lo devo mettere un po' da parte e ragionare più con la testa, però penso che sicuramente sarò più presente in questi quattro mesi che sono stato e sono sicuro che riuscirò a mettere cose a posto. Grazie Grazie